ciao monica abbiamo iniziato per burim ciao oggi albania 5 4 3 2 1 vedo burim di spalle è su una stradina e sul fianco destro ha contenuta dentro un fodero una spada si guarda tutto attorno con attenzione per fronteggiare eventuali attacchi attacchi che possono arrivare da degli eventi da delle persone o da delle entità ti dà l'autorizzazione e quando sente la tua voce capisce che è una presenza amica vedo che si rilassa per un attimo sorride facendo di sì con la testa bene burim ed io siamo stati insieme in altre vite tra l'altro proprio nell'antica grecia vedo come tipo adesso vedo all'interno di un tempio credo di due caste diverse è come se lui fosse un po' un personaggio più pubblico più di spicco tu un pochino di più del popolo ecco però già lì c'era come è stato uno sguardo di intesa anche se non vi siete praticamente parlati però è una vita allo stesso importante vibrazione di burim 15 miliardi consapevolezza 170 circa ps 44 vite 2031 cervello 9 e mezzo suscettibilità ipnotica questo non un gran che ma perché lui è molto trattenuto 28 28 ok vabbè 99 e mezzo 91 il cervello scusa e mezzo e mezzo scritto 91 le vite un potante però il resto molto alto consapevolezza alta e vibrazione un bel 15 prima sessione di burim quasi tutte o tutte le sessioni viste lui mi segue da tanti anni e sin dall'inizio sentiva risuonare qualche cosa con con me non con altri se non avesse mai visto neanche una sessione mia a quanto vibrerebbe adesso allora qui dobbiamo proprio andare tutto in un'altra realtà perché comunque lui avrebbe fatto lo stesso un percorso diverso capito 7 qual è un percorso diverso ma comunque di consapevolezza perché per lui è una spinta molto forte va bene cinema fratello certo sicuramente fidanzato della figlia figlia e figlio e moglie sì 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 figli assolutamente sì la moglie con una faccia molto triste come sì in un certo senso una vedova che ha perso qualcosa e che non si rassegna a questa perdita ma c'è e il figlio sì sì entrambi certo sia il figlio che la figlia e la figlia con il compagno fidanzato vuole presentarsi qualcun altro altro e non so perché sono arrivate un paio di persone che avevano fatto con noi la sessione anche dall'ungheria entità eteriche allora viene tipo una leonessa che ruggisce un ippopotamo con la bocca spalancata c'è un granchio mi fa vedere proprio queste pinze queste chele che apre e chiude secondo universo entrambi sia l'ippopotamo che il granchio e poi c'è questo non capisco se è una gazzaladra a volte mi sembra invece più un corvo tra una gazzaladra e un corvo falco uniforme sì 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 poi allora io vedo due di L dove sono? messo come se fossero piazzati qui ai lati delle sue orecchie vicino alle spalle entità mentali allora direi tipo come se fossero due e mezzo in che senso? lui ha un'entità mentale sua personale che si chiama soldi 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 è come se tutta l'esperienza che ha vissuto all'interno della famiglia dove c'era una grande preoccupazione e affanno dei soldi lui vorrebbe anche averla messa da parte dicendo va bene questo è il passato è storia però è come se fosse rimasta questa traccia energetica dentro di lui dove per molti anni i soldi erano proprio una fissazione un pensiero costante ora sono un po' meno un pensiero costante perché la sua situazione economica si è stabilizzata però alcune credenze legate ai soldi sono rimaste sono proprio impresse dentro di lui ed è proprio questa entità mentale che io direi è a livello grosso modo 3 si collega a un'entità mentale che è collettiva si chiama risparmio per farmi vedere questa entità mentale risparmio mi fa vedere un cielo azzurro e il sole che è coperto da una banconota azzurra con scritto sopra la cifra 500 che a me sembrano sai le nostre vecchie 500 lire delle ricordi quando erano in banconote ovviamente loro hanno anche un'altra moneta non è che non hanno neanche l'euro però mi sembra che per come io lo ricevo non è proprio una banconota di grande valore ma la banconota di 500 lec che è azzurra pazzesco ah dai non è vero pazzesco è pazzesca questa roba vale tanto vale tanto 500 lec sono 5 euro no? 5 euro giusto? quindi vale poco più o meno 100 lec è un euro quindi 500 sono 5 euro quindi vale poco vale poco vale poco e infatti c'è proprio l'idea del risparmio perché è tutto molto faticoso è tutto legato al sudore al sacrificio alla rinuncia alla privazione c'è proprio questa cultura così di mettere da parte la minima moneta perché è tutto molto non l'hai visto ma nel video ho fatto vedere la banconota ok l'altra entità mentale è vivi e lascia vivere lui che ha sviluppato questo bisogno di liberarsi dai pregiudizi liberarsi dalle credenze liberarsi anche anche dall'entità però non ci riesce fino in fondo ok quindi una parte di sé vorrebbe vivere in questa piena libertà nella piena espressione di se stessa e della propria consapevolezza però dall'altra parte rimane molto condizionato da quelle che sono delle scelte vecchie e quindi invita anche gli altri ad essere liberi invita anche gli altri alla consapevolezza però lui per primo non riesce a vivere questa cosa fino in fondo che livello dipende perché mi dà un range tra 2 e 4 perché a volte si sente proprio stretto la identità mentale collettiva risparmio che livello ha più o meno io direi più o meno la stessa di soldi soldi quindi sempre 3 ok e poi c'è la mezza la mezza sì mezza questa qui del risparmio io direi perché in realtà è molto simile alla sua soldi ha capito con un rinforzo come impianti siccome lui è molto attento anche molto battagliero questi impianti sono posizionati sono posizionati in modo che lui più di tanto non possa accorgersene quindi sul retro del corpo la nuca i lombari e il retro delle ginocchia basta va bene allora chiamiamo andiamo nel 95 purim incontra vede con occhio nudo quelli che oggi lo definisce degli alieni umanoidi se non ho capito vestiti in maniera nobile o con delle spalline seduti su un trono lui parla a queste persone queste entità loro non rispondono cosa è successo mi fa vedere lui siamo in Grecia sì lui che crea un ponte tra l'Albania e la Grecia lui che crea un ponte tra la sua vita del presente e per esempio la vita che ha avuto in passato è lui che crea una sorta di ponte tra culture aliene mi fa vedere lui che è in cammino stanco un cammino che in quel momento era particolarmente all'insegna no della fatica della vita dura ed entra quasi in una sorta di stato quasi di trance quel tipo di trance che gli consente di avere questa specie di visione è come se lui avesse una visione che in parte è storica quindi rivive in un certo senso il periodo in cui c'erano re c'erano un re e una regina nell'antica Grecia e c'erano i sudditi intorno lui è quindi spettatore come di questo passaggio diciamo così temporale tanto è tutto contemporaneo e lui attraversando questa specie di portale ha potuto vivere contemporaneamente la sua attualità con il passato ok non erano ok era una visione cosa è una visione Monica e dunque come se allora accade questo che lui passa attraverso questo portale grazie anche al fatto di questo stato d'animo che lui aveva stato d'animo o meglio psicofisico lui riesce a rivivere parte del passato ma nella l'attraversamento di questo portale non è solo un rivivere il passato ma è vedere un altro strato della realtà e quindi infatti lui non solo vede intorno a sé queste figure ma le vede anche impresse nel cielo e nel cielo vedo delle immagini che non hanno a che vedere direttamente con il re la regina i sudditi ma sono proprio più fantasiose ok addirittura vede dei pesci nel cielo che apparentemente non sono decontestualizzati lui sta facendo sì con la testa ok erano un po' di anni fa quasi 30 anni fa e cosa succede da quel momento in poi nella vita di Burim ci sono abduction non ci sono abduction iniziano aumentano diminuiscono migliora la vita peggiore la vita inizia un percorso di consapevolezza anche se lentamente si arresta è uno spartiacque questo evento lui vede praticamente una sorta di vera sostanza di questi re e regina ovvero che avevano una forte componente aliena in particolar modo per esempio vedo una matrice di alieni in cui c'è non so come dirti il dominio del femminile infatti mi parla tipo di una specie di alieno virgo vergine pianeta virgo alieno virgo infatti credo che in questa visione fosse più di rilievo la regina rispetto al re lui ha fatto questo esempio sulla lingua che poi tratteremo di venus ecco qua mi viene proprio virgo divergine però in effetti ha assolutamente a fine aveva va bene ci sono come si chiama il progetto di Burim mi viene così produci consuma e crepa nel senso che lui è vissuto in un contesto e in un paese molto anche basato sulla sopravvivenza in cui è molto difficile la vita e effettivamente bisogna lavorare duramente e come ha detto lui insomma le donne si occupano di risparmiare di mandare avanti la baracca e e il tutto come ti posso dire questo è tutto quello che è in primo piano e quindi la consapevolezza ma anche la dimensione dell'amore è in secondo piano ed è come se lui fosse in in un momento di passaggio ok quindi lui sta piano piano uscendo da questo tipo di progetto che alla fine comunque caratterizza anche molti suoi coetanei però ha ancora un'impronta di tutto questo di questo essere incasellato all'interno di questo progetto sociale economico ex paese comunista l'Albania ps nome albania pie grandangolo ok chiamiamo nel cinema tutta l'Albania qualcuno direbbe l'egregora ma non sopporto quella parola perché mi ricorda quel gruppo là dove c'è quella dislessica illetterata che sa solo dire grego e basta ignorante come una ciabatta tutta l'Albania con tutta l'Albania sono tutti gli albanesi l'essenza dell'Albania la lingua e le origini albanesi la bandiera albanese qualcuno non arriverà dovrebbero arrivare gli albanesi tutti spero che arrivino tutti però gli altri concetti che ho invitato potrebbero non presentarsi eh sì perché alcuni rimangono proprio schiacciati sotto la pesante ala dell'Aquila non riescono proprio neanche a vedere e a sentire l'invito altri invece vedo proprio che provano a scappare da sotto il petto dell'Aquila comunque una scelta molto coraggiosa di questo territorio perché ha scelto un tipo di entità molto forte molto pervasiva e quindi più è alta la sfida più alte sono le capacità delle persone che l'affrontano infatti quelli che arrivano sono proprio dei colossi quelli che partecipano adesso al tuo invito quanti sono in percentuale adesso a me viene il 36% beh Burim è un colosso sì 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 lui sì suo fratello sua moglie sono un suo fratello un colosso sì diciamo che si stanno veramente con grande forza e determinazione misurando con tutto il loro passato un passato veramente molto spesso molto difficile passato personale o passato di albanesi un passato personale culturale storico proprio del paese sì ok va bene che immagine è triste che è arrivato cioè lui che è piccolino avrà tipo due anni secondo me ed è come se guardasse al papà che in questo momento è un gigante per statura ovviamente che lui è così piccolino e prova soggezione timore soggezione timore la madre tipo che lo rimprovera e vedo che lo reprime perché lui vorrebbe un po' scoprire il mondo però lei lo rimprovera sempre lo vuole tenere più obbediente ok e lui va verso un cane tipo lo abbraccia e vedo che è dal cane che riceve affetto protezione i tuoi genitori li abbiamo già trattati Burim la prossima volta no vuoi farlo la prossima volta non adesso la prossima questa volta ok tuo papà e mamma non ci sono più sì no no ci sono sono vivi tutte e due tutte e due a chiamiamoli nel cinema non avevo capito sì sì allora si sta parlando di un uomo e una donna che è come se fossero proprio in un'altra bolla in una inconsapevolezza personale e storica come se loro lui è un po' lo spartiacque ok lui appartiene già il nostro Burim al nuovo mondo loro è proprio come se fossero nel vecchio mondo quindi loro arrivano dentro questa specie di bolla proprio come se ci fosse impressa la scritta vecchio mondo ciste benigna rilevata da esami medici al centro del cervello sembra più o meno dove c'è la pineale e Burim si chiede se ogni tanto la confusione mentale che di cui soffre può essere derivata da questo causa esoterica della presenza di questa ciste benigna che lui ha voluto avere allora me la dà come una sorta di espulsione di un impianto aspetta perché in realtà io vedo che già in adolescenza allora questo che lui ricorda dunque 30 anni fa l'episodio della visione diciamo così risale a 30 anni fa ma secondo me ancora prima lui aveva avuto qualche manifestazione ok degli alieni e vedo che durante un abduction gli è stato messo un impianto che secondo me era proprio fisico c'è stata proprio una sorta di non so come dirti di espulsione di questo impianto e la conseguenza di questa espulsione è stata proprio la creazione di questa cisti quasi una sorta se vuoi dirti di protezione quello spazio veniva occupato da un impianto adesso da una cisti benigna sì esatto cosa così però la confusione io non l'attribuirei alla cisti ma a questa sua sorta di lotta interiore molto forte che però fa parte del suo percorso di evoluzione ok tra il vecchio mondo e il nuovo mondo e questo crea molta fatica ok e anche un po' di confusione a volte perché se anche lui da una parte ha la totale chiarezza di dire io vado in questa direzione del nuovo mondo della mia consapevolezza di Burim che è il nuovo dall'altra è come se avesse delle contaminazioni del vecchio perché comunque la sua famiglia inclusa la propria moglie rappresentano proprio il vecchio e lui si riconosce completamente in questo bene una vita importante di Burim allora mi fa vedere che era tipo un sacerdote ortodosso lo fa per tanti anni e poi è come se scoprisse l'inganno l'inganno nella religione ma è molto doloroso anche perché lo scopre e vedo in tarda età perché sembra quasi avere 70 anni no? e vedo che quindi va in totale solitudine tipo lui e gli animali qual è il talento di Burim che in albanese significa sorgente? non lo so perché mi fa vedere delle cose piccole se lui è in grado di fare delle cesellature delle miniature dei lavori piccoli di precisione mi fa vedere proprio con degli strumenti che sembrano un po' quelli del dentista per intendersi per fare delle cose molto piccole e talenti spirituali diciamo lui è un gran ricercatore un grande analizzatore delle sessioni un gran commentatore delle sessioni allora mi fa vedere i ragazzi i ragazzi intesi come giovani intesi come adolescenti non tanto bambini per dirti dai 13 anni ai 20 anni in quell'età in cui si sta crescendo la capacità che lui ha per esempio di far capire loro delle cose di togliergli da quello che può essere la confusione e l'illusione creati dalla società e li vorrebbero direzionare che ne so verso la superficialità verso quello che è tutto fumo e lui invece la capacità che ha di fargli vedere che cosa davvero vale qual è davvero la verità ok curiosità di purim e poi ci buttiamo esclusivamente su di lui quando si dice in Albania una persona muore si deve seppellire orientata a est-ovest i piedi a est la testa a ovest questo anche in altre cività in passato causa esoterica perché nessuno lo sa si fa così e basta nessuno sa perché con i piedi nasco con la testa muoio aspetta perché questa cosa mi viene fuori tipo come se fosse un maestro una divinità che c'è allora quindi come se la divinità in realtà fosse dove c'è la testa e quindi tu alla divinità che è a ovest devi offrire la testa e non i piedi perché la divinità è a ovest aspetta un attimo perché la divinità è a ovest allora a ovest per noi c'è l'America e l'Inghilterra e mi spiace non è che sia tanto positivo quel che mi viene fuori come se in realtà volessero andare a confermare una sorta di sudditanza rispetto alle colonie principali l'Inghilterra e l'America e quindi la testa la parte diciamo così cerebrale pensante quella che deve essere controllata è rivolta a ovest quindi verso questi due a me viene così va bene si parla di dei quindi chiamiamo i dei legati alla civiltà albanese l'aquila con le due teste la lingua dei falchi è l'albanese ci raccontava Burim si dice anche la lingua degli dei ovvero la lingua da cui sono nate tutte le lingue successive vediamo una cosa alla volta chiamiamo gli dei albanesi come se fossero quelli greci in effetti come se fossero allora mi fa vedere come degli strati tu mi chiami gli dei albanesi a me si presentano anche quelli greci poi nello strato successivo si presenta tipo la civiltà aliena Sumer 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 Sumera Sumera ma che è scritto come Summer Sì Summer ok e infatti che poi è una lingua di quelle di cui dicevamo prima lingua anglosassone parlata in America parlata in Inghilterra quindi in realtà questa matrice qua Sumeri ma Sumeri intesi come principalmente alieni quindi la matrice della lingua albanese è essenzialmente Sumera questo stai dicendo ma viene così ok ha 6-8 mila anni 10 mila 10 mila è una lingua aliena vabbè aliena allora l'anima dà il compito a delle creazioni senza anima che chiamiamo dei se vogliamo di creare la matrix questi pensano di essere dei ci prendono il gusto e creano con compito col compito che è stato dato loro creano un contenitore umano depotenziato dove entra l'anima questo proprio decine e decine di secoli resti in una frase eccetto quindi vengano tutti questi qua chi ha anima alza la mano entra alzando la mano se no entrano e basta entrare basta poi c'è un arco che chiamiamo l'arco di lucio e alla fine presenza davanti a noi passando l'arco di lucio dopo l'arco di lucio hanno l'aspetto che devono avere quindi di là avranno vesti corone cazzi e mazzi passato l'arco di lucio devono avere l'aspetto che devono avere la dimensione che devono avere quindi se sono veramente degli dèi mi aspetto che siano alti e possenti altrimenti se sono dei pupazzetti che si trovano di plastica che si trovano nelle patatine devono avere quell'aspetto lì e sono belli e fighi e lucenti bene ma passato all'arco di lucio devono avere l'aspetto che devono avere bene passiamo all'aspetto che devono avere quanti sono e vediamoli uno a uno allora in realtà sarebbero 7000 perché ci sono tantissime anche sotto divinità e poi ciascuna divinità è come se avesse varie manifestazioni per quello che c'è questo numero così alto però nel momento in cui andiamo al di là di questo arco vedo allora intanto forse la presenza più massiccia è rappresentata da fumo nero molto denso dopo l'arco dopo l'arco sì sì prima dell'arco il fumo nero com'è? no no sono tutti bellissimi molto alti muscolosi e fieri dopo l'arco c'è fumo una scorrezza sì fumo nero e poi degli sgorbi difficile anche a volte distinguerne la forma perché sono proprio come condensati verso l'interno è un po' stracciato sei un po' bloccata adesso non più dei pezzi di carne lucida rattrappita con la faccia all'interno piccoli risulti come se fossero sì delle prove di ibridazione di animali uomo venute male esatto esatto degli aborti così il migliore il capo chi è il capo? allora ce n'è uno che è come se riuscisse ad avere un'immagine più compatta più razionale se così vogliamo anche dire ed è a forma di coccodrillo ma è molto trasparente sfumato vengo io adesso davanti a tutti loro e faccio un po' di body shaming quanto siete brutti tutto qui aggiungo delle scritte sul mio arco la verità innanzitutto scrivo poi scrivo mi sono rotto le palle delle palle poi scrivo chi non salta non ha la ps scrivo tutto quello che mi pare in modo più canzonatorio possibile perché ormai di questa parte ce ne siamo rotti le scatole i grandi dei albanesi i grandi dei della storia sono degli aborti trasparenti sono degli ologrammi non hanno anima non sono creatori e sono smascherati vedo che loro vorrebbero mettere una specie di velo con su scritto tipo segreto inganno ma non ci riescono perché di fronte a questo tuo richiamo all'autenticità alla verità si spriciolano questi veli la scritta che faccio sul mio arco più importante è lavoro finito questo gioco degli dei finisce non ci servite più se io voglio se monica vuole se burim la sorgente vuole possiamo costruire noi il nostro olimpo i nostri templi il tempio di monica il tempio di lucio il tempio di burim io lo creo com'è non è facile descrivere perché è come se contenesse mille immagini in una sola allora sostanzialmente lo vedo d'oro però è come se questo tempio fosse un tempio di esperienze per cui ogni volta la scenografia cambia nel senso che per un attimo si mostra un prato fiorito poi l'attimo dopo è come se fosse una distesa quasi di deserto poi l'attimo dopo ancora è un paesaggio marino è un tempio cangiante un tempio che rivela la tua capacità creativa divina il tempio di monica com'è la dea monica e adesso mi è venuta come si può dire un pergolato un pergolato che è coperto da fiori diversi da fiori che appartengono a varie stagioni e a vari climi a vari territori ed il tempio di burim com'è no dimmi mi stai dicendo no che ci sono tante sedie per tante persone che possano ammirare la bellezza della vita ci sono dei fiori da questo percolato cadono dei fiori tantissimi ma anche dei ciclamini che non potrebbero stare lì oltre che il glicine c'è la tuberosa c'è tipo una come si chiama il fiore di vaniglia del Madagascar poi delle piante credo africane le vedo enormi un po' carnivore c'è di tutto per invece il tempio di burim è come mi fa vedere una tavola molto spessa di marmo bellissimo screziato con dell'oro e delle pietre preziose incastonate e ci sono tanti giovani intorno e lui vedo che è come se scrivesse sul tavolo ma poi la scritta può anche andare via perché tanto insomma siamo nel mondo della creazione dove tutto si trasforma e lui scrive e legge dell'amore perfetto tutti gli albanesi 36% della popolazione di circa 3 milioni dell'Albania adesso creano il proprio tempio nel nostro Olimpo che è un monte non monte non è che chi sta in alto è meglio di chi sta in basso a volte il tempio di Burim appare in alto a volte appare in basso a volte appare a metà lui lo sposta è un continuo cambiamento noi siamo dei chi ha accettato l'invito lo ha compreso e crea il proprio tempio quindi io non so i nomi albanesi ma diciamo Giuseppe Giovanni Alberto Carla Anselma Maria tutti gli equivalenti di questi nomi hanno il loro tempio sì ciascuno riconosce la propria divinità il diritto ad avere il proprio tempio e a poter anche visitare il tempio dell'altro perché non c'è una grande distinzione c'è uno scan tra dei abbiamo creato il nostro olimpo abbiamo creato anche il nostro titolo l'olimpo degli dei bene torniamo a Burim cosa vuole fare vuole parlare alla moglie è come se di improvviso non parlassero la stessa lingua vuole parlare esiste la fiamma di Burim oh me la da in Germania potenziale finita ma è sempre cambiabile se uno vuole sempre sempre questa questa parte sentimentale personale l'amore insomma per una donna è stato promesso da parte da Burim nella sua ricerca della consapevolezza e infatti lui si è molto incentrato allora c'è un fatto che Burim ha avuto una vita molto difficile e molto molto dolorosa per riuscire tra virgolette a sopravvivere a tanti orrori perché io li definirei così con così tanta forza con così tanto coraggio e con integrità perché lui è rimasto intero avrebbe potuto uscirne a pezzi è come se avesse dovuto spostare l'attenzione da quello che è l'ambito strettamente personale appena fuori ok quindi lui proprio per conservare se stesso è dovuto partire da un guscio sempre di se stesso però un pochino più esterno per mano a mano avvicinarsi a qualcosa di più intimo di più profondo che poi alla fine è la famiglia sia intesa come famiglia d'origine i suoi genitori sia famiglia chiaramente a questo punto sua moglie ha dovuto fare così un po' per proteggersi e quindi adesso è posto di fronte a questo a ciò che lo tocca alla fine più profondamente e più direttamente i suoi affetti quotidiani cosa vuole dire alla moglie nel cinema mi mostra due frecce che rappresentano lui e la moglie e proprio sono divaricate nel senso neanche sono due frecce come i binari che corrono paralleli proprio due direzioni opposte alla figlia cosa vuole dire ho fatto di tutto per poter creare un ambiente diverso da quello in cui io sono cresciuto mi fa vedere anche tanta ottusità tanta chiusura il clima in cui lui è cresciuto e lui invece ha cercato di creare apertura e specie negli ultimi anni condividere tanto di quello che comprendeva e io sento che lei capisce ok andiamo al portale Aureo non dobbiamo chiamare nessuno chiamiamo lo stesso tutti i parenti di tutte le linee temporali e di tutte le generazioni di Burim e c'è proprio anche una catena di schiavitù sai come se tutti fossero legati da questa catena di ferro pesante che li ha fatti essere servi servi del potere servi del duro lavoro servi di qualcun altro ok di qualcun altro che era il padrone dimenticando completamente la propria forza la propria divinità è come se il petto di Burim si stesse proprio gonfiando e con questo vuol fargli vedere quanto lui e tutti noi esseri umani siamo forti e siamo davvero divini e questi disincarnati lo stanno comprendendo uno solo vuole lasciargli un messaggio e se si chi è una donna picchiata vedo che aveva subito un po' di tutto sia dal dal proprio marito ma anche dai figli che avevano avuto lo stesso comportamento del marito e dice grazie perché ho capito che non ha senso subire ottimo ora ma vediamo se entrerà nel portale aureo chiamiamo il cagnolino che lui abbracciava davvero a due anni c'era un cagnolino nella tua infanzia Purim sì non so è proprio è l'amore lui sentiva lui è sempre stato un essere umano molto sensibile sì e nel momento in cui abbracciava questo cane sentiva il non giudizio sentiva quello a cui sarebbe voluto arrivare la verità l'amore il non giudizio la libertà lo sentiva pieno la protezione la sicurezza la possibilità di scegliere senza sbagliare quelle terre esiste ancora o si è rimescolato del cane dico se che non ho capito scusami cioè gli animali di solito non hanno un'anima hanno uno spirito quello spirito viene un po' poi rimescolato in altri quindi questo cane poter aver deciso di diventare poi un'aquila il mare il vento tipo come se fosse negli alberi negli alberi mi fa vedere che costeggiano io credo una strada che lui conosca sono degli alberi vicini raggruppati quindi lui lo vede Murim il cane lo vede Murim sotto forma di albero e alberi con delle fronde si cosa vuole dire il cane a Murim ero sempre con te e l'hai sentito e Murim il cane e grazie per quell'amore che cercavo dai miei genitori e ho avuto da te ok va nel suo portale definitivo e scusa aureo dei cani però è già presente sotto forma di albero quindi no in realtà potrebbe anche andare diciamo che è un po' tutto sì esatto perché vedo una diramazione di energia come se una parte di energia fosse in questi alberi e una parte di energia può andare a comporre questo portale aureo eterico senza in questo modo però pensare che sia depotenziato ecco vedo proprio che adesso inizia a muoversi queste fronde di alberi a fare del vento che accarezza il volto di Murim va bene salutiamo tutti i disincarnati il cagnolino e chiudiamo tutto ho una curiosità Monica quando parlavamo degli esseri che ha visto nel 95 i giorni successivi ha visto parecchi corvi che attinenza c'è? sì perché è come se fosse una specie di vabbè chiamiamo la gerarchia no? le entità rispetto agli alieni ok? quindi di fatto lui ha visto attraverso questo portale questi alieni diciamo così sumeri ok? che da un punto di vista delle entità si manifestano anche con i falconiformi e quindi per questo che lui ha visto poi nella natura nella realtà vari volatili intorno a sé andiamo al cluster come se galleggiasse tra le lacrime un libro di famiglia nel libro di famiglia sono contenuti tutti i divieti tutti gli obblighi tutti i sacrifici tutto il disamore la violenza anche tutti i contenuti lì dentro e in questo libro galleggia su delle lacrime tante lacrime via tutto sì via senza rimpianti senza senza dolore dentro un ad eternum abbondante la creazione di Burim prende piede mi fa vedere che dalla sua miniatura lui sta creando una miniatura ha forma proprio di chiocciola la casa diciamo così della della lumaca sembra che abbia questa miniatura poi è come se diventasse mano a mano gigante e quindi diventa un ad eternum a forma di chiocciola sì avatar c'è qualcosa la bandiera dell'Albania c'è di rossa con la doppia testa di falconiforme nera la teniamo no è come se lui sapesse adesso come rielaborare questo suo rapporto con l'Albania con la storia dell'Albania con la lingua quindi assolutamente questa bandiera così com'è può buttarla via dentro un portale definitivo benissimo con questa condizione il progetto produce consumi e crepa esiste ancora? no la entità mentale collettiva risparmio l'entità mentale soldi 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 e l'entità mentale vivi e lascia vivere così come il leone l'ipopotamo il granchio la gazza e due di elle esistono ancora? no ha ripulito ogni cosa impianti no li ha tolti nuova vibrazione del dio Burim 387 nuova consapevolezza 204 ps ps 59 vite 1705 ok quelle che ha tolto sono state perse così come l'informazione che contenevano o ha tenuto l'informazione e ha tolto le vite certo la seconda che ha detto certo perché ha tolto le vite troppo pesante il ricordo o ha un'altra ragione inutili diciamo così che ha tolto l'inutile quando noi andiamo verso la verità andiamo verso la semplicità quindi tendiamo a semplificare ciò che c'è superfluo viene tolto questo lo dicevamo fuori dalla registrazione ce l'ha chiesto Burim è un po' come se fosse un estratto di frutta e verdura che l'estratto è quando si spreme forte forte con una macchina il succo in una bibita e la beviamo la polpa che vabbè è vero si può riutilizzare per fare torte e altre cose solitamente viene buttata le vite che buttiamo è questa polpa che non serve più perché il succo di quelle vite l'abbiamo già ingerito è già nostro quindi tenere la polpa in casa di frutta e verdura che non ci dà più nulla in un angolo in un contenitore è anche un problema è una cosa inutile anzi in questa in questo parallelismo potrebbe marcire puzzare portare parassiti insetti muff cervello nove e mezzo 10.4 suscettibilità ipnotica 60 ottimi valori tutti quasi la perfezione la giusta senza impazzire vibrazione più di 200 di consapevolezza che è tanto per la prima sessione è tanto 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 perfetta la ps abbassato il giusto le vite 10 4 il cervello è tanto 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 soprattutto per la prima sessione è un valore su tutti i valori da seconda sessione questi e 60 la suscettibilità ipnotica quindi burim potrebbe tranquillamente andare in ipnosi oggi prima no perché col 40 si può e probabilmente alla fine della sua esperienza potrebbe anche arrivare a 80 o di più ottimo c'è un nuovo progetto di burim scevro cioè pulito da interferenze dice gioia nel mio cielo blu ok messaggio di burim a se stesso l'unico a cui davvero deve lasciare un messaggio ho percorso strazianti vie di dolore e di odio sono nella via dell'amore della consapevolezza e della virtù come lo vedi sempre con la spada pronto a combattere come all'inizio no con proprio il petto dilatato di forza di coraggio di amore di disponibilità verso la vita e assenza di paura tanta consapevolezza bene gli stringo la mano in eterico vuoi farlo anche tu Monica molto volentieri e quindi abbiamo finito pronta a tornare sì sì di un'esprete di un'esprete di un'esprete di un'esprete